Dopo una lunga attesa riapre oggi la Galleria Frondarola situata al km 67.050 della SS80 del Gran Sasso d'Italia che è stata interessata da lavori di consolidamento rientranti in un più ampio programma di interventi mirati al miglioramento degli standard di sicurezza già avviati lungo la suddetta Arteria Viaria. ANAS fa sapere in una nota che i lavori eseguiti nella Galleria Frondarola, della lunghezza di poco più di 400 metri, hanno consentito il pieno ripristino della funzionalità della struttura e la sua durabilità nel tempo ed hanno avuto un importo di 2,6 milioni di euro. Rimangono da eseguire, prosegue ANAS, alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti la viabilità il cui completamente è previsto nel prossimo mese di settembre. L'intervento di miglioramento della viabilità statale all'interno della Galleria prevede la realizzazione degli impianti tecnologici previsti in un diverso appalto e che verranno avviati entro il corrente anno. Ci fa solamente piacere perché finisce veramente questo periodo in cui la frazione di Frondarola ha dovuto subire un traffico veramente maggiore rispetto a quello normale dovuto al passaggio delle persone, delle macchine che venivano provenienti da Montorrio. Nello stesso tempo dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno che nonostante la tempistica sicuramente molto lunga abbiamo ottenuto una messa in sicurezza di una galleria che presentava delle lesioni strutturali importanti che in qualche modo mettevano a repentaglio la sicurezza dei passanti. Ovviamente i lavori come al solito potevano essere più celeri, se non lo sono stati saranno stati dei problemi. L'ANAS che ha commissionato questo lavoro aveva un direttore dei lavori che avrà verificato la tempistica e le modalità per le quali si sono prolungati. Nello stesso tempo cerchiamo di guardare oggi che è appresso che sarà riaperta questa galleria e che quindi sarà fruibile da parte di tutti i cittadini per andare non solo verso Montorrio ma per andare anche verso le nostre montagne che sono così attrattive in questo periodo.